Ecco il mio libro Pietra, Acqua e Arte, le cave di pietra statuaria nel Bosco Caproni ad Arco è una ricerca che vuole fare chiarezza sul valore che le cave di pietra statuaria hanno avuto nel corso dei secoli ma anche che vuole illustrare le specificità del Bosco Caproni come unicum e come ambiente totale. Ho fatto una ricerca per trovare documentazione circa alcune statue importanti realizzate con blocchi di pietra cavati nel dosso di Vastrei cosiddetto. La ricerca più importante è stata quella riferita alle statue colossali che sono sul fiume Taro a Parma una fatica immensa e un'opera a cui ho dedicato un buon spazio anche perché è supportata da diversi documenti d'archivio che ho ritrovato nell'archivio di Stato di Parma. Altre statue importanti sono quelle della fontana del Nettuno a Trento compreso il Nettuno che adesso si trova nel palazzo Tuna, il palazzo municipale di Trento altre statue sono nelle nostre chiese a Massone, a Calavino e questo è stato un inizio per far chiarezza e io mi propongo anche in futuro di approfondire questa origine. Altro utilizzo importante di questa pietra è stata la realizzazione delle condutture per l'acqua. Giovanni Meneguzzi, un imprenditore locale, supportato prima da un'iniziativa di scalpellini, di lapicidi cremonesi, avvia questo mercato e si crea un nuovo spazio industriale importante per Arco e lui in cambio del dosso di Vastrei, quindi la concessione delle cave, la vendita delle cave da parte del comune realizza la rete idrica dentro la nostra città con le varie fontane che ancora adesso si possono ammirare. Questi tubi di pietra sono stati utilizzati anche per realizzare il primo acquedotto di Trento. Ecco, questa è una notizia importante. La parte finale del libro è di valenza estremamente didattica perché è una sorta di piccola guida al bosco laddove si valorizza anche l'attività della SAT con le attività didattiche, l'attività dei gruppi alpini di Arco che hanno pulito e reso praticabili le trincee ed altre piccole chicche di carattere geologico ambientale che noi ci proponiamo di valorizzare ulteriormente.